Perché è una sfida leggere i Promessi Sposi? La lettura dei Promessi Sposi è una lettura impegnativa. Per quale motivo? Prima di tutto, Mazzoni utilizza una lingua distante da noi, scrive con una lingua italiana del 1800. Inoltre c'è da considerare una cosa molto importante, Mazzoni era un artista del linguaggio, utilizza moltissime figure retoriche. Il lettore se ne sarà già accolto. Don Abbondio non era nato con un cuor di Roma. Qui abbiamo ben due figure retoriche, ne parleremo al prossimo video.